Nasce una nuova categoria nel lavaggio. Samsung presenta AdWash, l'unica gamma di lavatrici con l'oblò nell'oblò, grazie al quale è possibile aggiungere capi o detergenti quando vorrai, in ogni momento del ciclo di lavaggio. Il ciclo di lavaggio è già partito, ma ci siamo dimenticati di inserire un capo di biancheria nel cestello. Con le nuove lavatrici Samsung della gamma AdWash basterà aprire l'oblò AdWash e aggiungere ciò che desideri in ogni momento, senza dover annullare l'intero ciclo di lavaggio o aspettare che scende il livello dell'acqua. Non soltanto è possibile aggiungere il calzino dimenticato, ma anche indumenti più voluminosi, come ad esempio una maglietta o addirittura un paio di jeans. Una soluzione geniale e rapida che garantisce totale flessibilità di lavaggio e un notevole risparmio di tempo ed energia. Il tutto con la massima semplicità e rapidità. Basta premere il tasto pausa, aprire l'oblò AdWash, aggiungere ciò che si desidera e richiuderlo prima di far ripartire il lavaggio. E nella più totale sicurezza grazie al blocco tasti a prova di bimbo. L'esclusiva tecnologia Smart Wi-Fi permette di controllare e azionare la lavatrice direttamente da smartphone o tablet tramite l'app Smart Home. Grazie alla funzione Smart Control riceverai una notifica sullo smartphone per avvisarti quando aggiungere al momento giusto capi delicati o poco sporchi prima del risciacquo. Oppure capi già prelavati, prima della fase finale di centrifuga. E potrai aggiungere anche eventuali additivi o amorbidenti al momento giusto. Oltre alla elevata capacità e al doppio oblò, la lavabiancheria AdWash si distingue per il design Crystal Blue. Con maxi oblò più ampio, per semplificare il carico e lo scarico di ogni tipo di bucato, riducendo gli sforzi. AdWash Crystal Blue ridisegna anche l'estetica del cestello, con una superficie a bolle, per migliorare l'azione lavante rispettando anche i tessuti più delicati. Una luce LED all'interno illumina il cesto, in modo da rendere visibile anche il più piccolo capo dimenticato all'interno. Infine la lavatrice è dotata di un intuitivo display touchscreen a colori, in grado di dialogare in modo semplice con l'utente. Efficienza energetica ed eccellenti prestazioni sono garantite dalla tecnologia Eco Lavaggio. Prima di iniziare il normale ciclo di lavaggio, vengono immesse nel cestello delle bolle d'aria, che dissolvono perfettamente il detersivo, massimizzandone l'efficacia già in acqua fredda. Grazie ad Eco Lavaggio è possibile ottenere risultati sorprendenti in termini di efficienza, con un risparmio aggiuntivo fino al 50% di energia, oltre alla classe A+++. Per esempio, si può utilizzare il forno senza incorrere nel rischio che salti la corrente. Infine, con il programma Eco Lavaggio Rapido, si possono lavare 5 kg in meno di un'ora, ideale per lavaggi di tutti i giorni. La lavatrice Crystal Blue AdWash assicura la massima silenziosità ed affidabilità, grazie al motore Digital Inverter garantito 10 anni e al sistema antivibrazione VRT+, che mantiene il cestello in equilibrio anche ad alte velocità di rotazione, minimizzando le oscillazioni. Perfetta anche per lavaggi nelle ore notturne. Tutta la gamma AdWash offre il meglio della tecnologia oggi esistente e la garanzia di una scelta serena. Tutta la gamma AdWash ti premia con il pacchetto AdRelax, composto da 20 rate tasso 0 e l'extra garanzia gratuita da 2 a 5 anni. Puoi chiedere di più ad una lavabiancheria? Per saperne di più sulla nuova gamma di lavabiancheria Crystal Blue AdWash, collegati al sito samsung.it